Ciao ragazzi e ciao ragazzi, questo è un video per mostrarvi come rimuovere le ciglia finte, scusate se sono ancora con il trucco del tutorial precedente. E qui già mi mancano le ciglia, però mentre levavo ho pensato facciamo il tutorial. Allora, vi dico subito che se le ciglia, poi vi farò anche un video su come applicarle, le vengono applicate un pochino male, si appiccicano proprio sulle vostre ciglia e quindi rassurranno alla base delle vostre ciglia uno strato di colla, che poi comunque può essere rimosso con dell'olio. Quindi state tranquille. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un dischetto, che vedete è già sporco perché lo stavo utilizzando, e di un coton fioc. Io vi consiglio di utilizzare uno struccante senza olio, però io ho purtroppo solo questo bifasico che ho creato io, poi vi farò un video anche su questo, e quindi oggi finirò questo che ha l'olio, perché non ce l'ho proprio, quindi devo andare a fare anche spesa. Però vi consiglio uno senza olio perché danneggia di meno le ciglia finte. Quindi, allora, come rimuoverle? Allora, aspettate che vi zoomo. Allora, verso lo struccante sul coton fioc, e lo vado a passare alla base dell'attaccatura delle ciglia finte, e quindi, così. E' molto importante questa fase per evitare che vi tiri le vostre ciglia e in modo che non vi vengano dietro anche le vostre ciglia, appunto. E vado a fare, con il coton fioc, pressione verso l'alto, in questo modo. Aspettate, vi zoomo un altro po'. Così, guardate. In questo modo. Ok, ora andiamo a spaccare delicatamente, mi raccomando. E noterete che non vi farà male. Quindi, se invece l'andate a fare senza questo passaggio, vi tireranno le ciglia in una maniera tremenda, proprio. Facciamo lo stesso passaggio anche per l'altro occhio. Vado a passare. Poi, ovviamente, vi farò anche il video su come mettere le ciglia finte, che mi sembra un po' da ignoranti fare il video come levarle e non aver fatto quello su come metterle. Quella che mi tolta. E ora vado a levare anche quelle sotto. Oggi adesso mi metto a piangere. in questo modo. Guardate, ho l'occhio che sta per piangere perché ho fatto lo struccante bifatico con l'olio alla menta. Che genio! Wow! Ecco qua. Ora, di zoomo, abbiamo rimosso le ciglia finte. Ora mi vado a struccare perché voglio evitarvi questo spettacolo. Un bacio a tutti e ciao!